la ridiamo perché giustamente roberta ha detto vabbè ma che dobbiamo chiamare il truccatore prima del video e se no ma questo è il secondo ciak e questo è il secondo ciak ho capito allora abbiamo cominciato roberta si inizia a levare le cispe così si è messa qui davanti e si è cominciata a levare punti neri e cispe dico non lo so perché qua a tre giorni a palermo ok sempre qua il bagno poi ricominciamo alla comunque possiamo cominciare quindi oggi siamo molto riposati molto rifocillati dopo la sindrome delle gambe senza riposo di ieri che praticamente siamo andati a dormire e continuavamo a camminare oggi c'era era sarà detto insomma brutto tempo brutto tempo pesante pensiamo di riposare in realtà le gambe facciano così anche il telefonino per esempio ci siamo mossi sul letto facciamo la bicicletta e quindi una forza interiore ed anche esteriore ci ha detto no dovete andare a scoprire palermo quindi oggi che cosa è successo molto più tranquilli riposati quindi una media 100 chilometri che solo 100 chilometri riposare ok allora siamo andati a monreale con l'autobus a vedere il duomo e il chiostro e ovviamente il duomo è bellissimo il chiostro è bellissimo e il duomo è sempre pieno di un sacco di mosaici bizantini che riprendono alcuni sono quasi uguali a quelli della cappella palatina è da vedere per cui è proprio una gioia per gli occhi e il chiostro anch'esso stupendo fatto tutte queste queste colonne che lo circondano ognuno con un capitello diverso scolpito ognuno con intere storie scolpite su questi capitelli sono assolutamente meravigliosi di ritorno siamo scesi dall'autobus un po prima perché sulla strada che riporta riporta al capolina ci sta la cuba e siamo scesi a vedere la cuba che era le condizioni attuali della cuba scusate un albero nella testa e le condizioni attuali della cuba sono un po trascurate diciamo la verità però se uno ha letto prima qualcosa su che cosa rappresentava questo palazzo che era una dimora di riposo del dei re dei governanti siamo doveva riposare avere era circondata da acqua da alberi da giardini si può fare un po l'idea della grandiosità di queste io vorrei dire innanzitutto questa mattina prestissimo abbiamo preso l'autobus normale che ci ha portato a mont reale e quindi abbiamo preso quello delle 7 e 30 al primo si uno dice va bene ma va in vacanza di riposare no perché è stato perfetto siamo arrivati su e tra l'altro abbiamo fatto anche colazione dalla pasticceria cappello che abbiamo scoperto essere a due passi da dove siamo noi che tra l'altro è veramente un posto ottimo questo qui tattico perché è vicino anche a un altro posto assolutamente tattico che va proprio provato ed è testa grossa che fa pane e panelle ora non posso dire più buone di paderno perché l'ho assaggiato in due posti ma era spettacolare oggi ce l'abbiamo fatto intanto ci arriviamo che dobbiamo dire delle cose e quindi questo è un posto tattico però è tattico però pure qui c'è un'altra sindrome sindrome proprio i spazi proprio siderali per cui ogni cosa che tu fai qui partendo da qui cosa succede è sempre un chilometro e mezzo sempre andiamo là quanto ti sei un chilometro e mezzo ok poi andiamo là diciamo andiamo a visitare anche questo posto un chilometro e mezzo sono praticamente a chilometri e mezzo quindi praticamente noi siamo vicino tra l'altro anche alla chiesa dei cappuccini dove poi ci sarebbero i famosi le cripte dove ci sono tutti i defunti cappuccini più la bambina famosa lì insomma posso famosissimo che tra l'altro poi è scritto che è chiuso definitivamente però qui è veramente difficile capire perché poi oggi è stato veramente all'insegna del popular come piace a noi e quindi le sorprese sono state veramente all'ordine del giorno non abbiamo fatto oggi proprio la il giro con quello istituzionale ma abbiamo fatto quello veramente così come ci ci ispirava ed è stato veramente vincente perché sono successe delle cose veramente divertenti perché ovviamente scesi da montreal da amato questo da montreal e abbiamo detto che facciamo come pioverà nel pomeriggio che facciamo non sfruttiamo questo ultimo raggio di sole e ce ne siamo andati all'oratorio dei bianchi dove ci dovevano essere le sculture ci sono le sculture di serporta e allora andiamo siamo arrivati con il nostro bel navigatore davanti alla facciata che sembrava una chiesa tutto sbarrato e noi lì ma ci terbolina di qua ci terbolina di là ma come è possibile che sia chiuso e ce ne torniamo con le pive nel sacco nella stanza pensando fin quando non ci viene il semi del dubbio ossia che quella non fosse la reale entrata dell'oratorio come infatti non era c'eramo eramo sul retro quindi eravamo tormentati perché pensavamo di aver fatto la tontolata no poi stavamo a casa e tra l'altro c'era il sole che spaccava le pietre proprio in due c'erano veramente dal cielo sputazzi di acqua ma in realtà noi stiamo là abbiamo detto ma qui siamo siamo inesplosi siamo inespressi e di conseguenza dobbiamo ottimizzare abbiamo capito che là non era noi che siamo stati tonti ma è stato il destino che ha voluto che noi andassimo a visitare l'oratorio dei bianchi in un preciso momento quello in cui si è verificato l'episodio principe di questo viaggio all'insegna dei cliché cosa Fabio ti racconterà all'insegna un pochino del cliché forse andrebbe anche vissuto però io l'ho soprannominato la bambina arancina l'episodio della bambina arancina perché ha come protesta questa bambina pulita in carne diciamo che forse aveva un po' abusato o anche la bambina bombardona durante queste arancine si dice in questo periodo e per questo diciamo che l'episodio è un po' pieno di cliché certo no la cosa eccezionale è che quando noi siamo andati là in realtà sempre vicino la calza quindi praticamente noi siamo andati ieri alla calza pensando di dire vabbè ci siamo visti in questo quartiere è finita in realtà sempre per il discorso e per la famosa regola di un chilometro e mezzo ci siamo stati 70 chilometri solamente le calza perché abbiamo fatto su e giù oggi anche ritornare sempre da dove siamo qui un altro chilometro e mezzo di nuovo lì praticamente ci siamo riandati perché non ci suonava diciamo ma come mai perché c'era la facciata di questo oratorio però era tutto sbreccato tutta una roba con una sorta di pietrisco dove pareva proprio che non ci fosse andato nessuno invece in realtà stava dall'altra parte comunque noi arriviamo lì ed è stato clamoroso però Berta vi dirà pure altre cose dove siamo stati bellissime tra l'altro proprio da vedere al cento per cento e inaspettatamente siamo andati lì e il tipo non si capiva niente ci ha detto no ma entrate ci sono dei delle parti di serpotta poi sopra e c'erano queste ragazzettine ma ci avranno avuto 14 anni e non si capiva c'erano un po' intimidite noi in serenità poi vabbè se guardavo ma veramente così siamo così così antichi così perché c'era un po di tensione e quindi e qui introduciamo quello che è successo c'era una sorta di ansia di prestazione cioè queste ci hanno detto no guardate che con soli pochi pochi euro andiamo sopra che ci sono ce ne capivamo e abbiamo detto vabbè pochi euro andiamo sopra quindi c'erano queste ragazzette in verità che erano piccole ci hanno avuto 14 anni e stavano lì con questi fogli tutti evidenziati e con le cose da vedere quindi io stavo là diciamo ma queste ma ma vabbè ok ottimo quando arriviamo su che succede innanzitutto c'era quest'ansia quindi quest'ansia ho subito pensato al film dei fantozzi quando sta come ieri dove c'è lui il cameriere e lo spettatore quindi è l'apice dell'ansia perché c'è e paolo villaggio che non vuole vedere il cameriere perché è quello che ogni volta che se dono succede nei drammi fino all'apoteosi finale dentro praticamente la la polenta poi c'è il cameriere che non vuole vedere paolo villaggio perché è una calamita e poi c'è stato spettatore che c'ha proprio l'ansia vera qui dirette già era un po' ansiogena la situazione perché andiamo su e questa ragazzetta fa allora cominciamo c'era sta sala non c'era niente zero e praticamente parlava un'altra amichetta sua e lei ha cominciato a dire le stesse cose ed era proprio in stato confusionale io al che io lo dì sia tranquilla che sentiamo infatti lei ha capito ha detto sentite l'amica mia e parlavano e parlavano a certo punto c'erano questa famigliola con questa bambina che ci avrà avuto non so sei anni forse che diciamo era bambina arancina di cui parlavo prima e praticamente questi vanno avanti nella stanza successiva sentiamo un tonfo entriamo subito dopo nella nella dalla porta di questa stanza e troviamo una bambina incastrata nella sera bambina arancina incastrata perché si era seduta su una sede a 700 scalavera sfondata e c'erano le gambe e le braccia che gli uscivano da stasera è rimasta sette ore così perché eravamo tutti i genitori non si arrivati a liberarla si arrivati due due padre e madre tutti e due a tirarla fuori da sua sedia che la bambina poi si è tipo messa a piangere la madre consolava la bambina doveva consolare la sedia probabilmente che era l'unica cosa sfondata là dentro una sedia che poi ci hanno confermato di essere pure antica sì 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 e quindi faceva un po' questa scena un po' da cliché di film di canzina però faceva un po' ridere anche se non fosse che aveva sfondato sì che poi c'era c'era s'indulgenza per cui i genitori è pure che io ho fatto subito è il pure il purellismo di moderna memoria dove io ho pensato ho fatto subito un parallelo con mio padre è vero che la bambina era piccola si stava annoiando quindi bombardina andava in giro non sapere che fa no vabbè era bombardina era bombardina quelle proprio le cinettine però non di sviluppo proprio del bombardino di panza e di arancini proprio quindi aveva mangiato proprio quei fuso quelli proprio la bambina quella che si stava annoiando e con la maglietta generica quella che stessi sempre non si potava vedere la bambina non si potava vedere dai cioè lo tocca dirlo tocca essere onesti e poi non saprà che fa quindi tagli che si muoveva si agitava si contorceva a un certo punto si ha sentito boom boom e si vedeva questa con ste gambe rientrata dentro ma il problema che il padre non usciva e sarà incastonata e quindi è successo che ste ragazzette erano ansiogene perché non savano che fa e spiegavano male non si capiva niente facciamo acqua potevi vedere hanno sbagliato tutti i quadri quindi praticamente questo è e poi a me mi è venuto il flash del mio padre che praticamente prende e io penso che se in quel periodo ma anche in questo qua magari vent'anni trent'anni fa avessi fatto una cosa così cioè mio padre mi alzava per l'orecchio e mi faceva diventare tipo alto due metri perché era proprio una cosa che io non dovevo fare cose ricreative non richieste quindi invece il padre la madre è purella purella io stavo a dire purella hai spaccato una cosa in sicilia hanno chiuso la sicilia porco due quindi spettacolo a me scrive nei commenti cosa avrebbero fatto i vostri genitori se avessi sfondato una cosa del settecento perché viene una bastonata sui piedi e la ciavattata quella con la lingua quella è quella così esatto quello sapeva quindi vi invitiamo voi che siete nella nostra età più o meno del settanta dell'ottanta di perché quelli moderni inutili cosa avrebbero fatto i vostri genitori se sfondate poi però una cosa divertente perché quando è successo questo siamo riscesi e abbiamo cominciato praticamente la stanza quella che poi era gratuita quella che si entrava dove c'erano questi questi pezzi di serpotta originali pure interessanti si vedevano proprio erano proprio a a portata di mano e praticamente allora questa qua questa bambina questa ragazzetta mi fa no allora e ricomincia così poi io ho detto senti te posso fare una domanda ma salve fatto ma te posso fare una domanda e vabbè continuiamo io ho fatto la ragazzina tutt'anzio io ho fatto ma ma dico ma che stai a fa qua ma perché state qua voi fa no perché praticamente facciamo una cosa tipo scuola lavoro allora ci hanno messo una cosa a lei ho fatto certo com'è mi fa no perché sai è sabato io voglio dire ma non è sabato è proprio sempre io voglio dire perché comunque sia non si io ho fatto comunque come dire o cioè chiudi tutto racconta me tu cazzà cioè non ti preoccupare queste poi è presa bene ci hanno raccontato le cose sbagliando sempre e quindi alla fine ho fatto mi raccomando un bocca al lupo e insomma è stato molto divertente vabbè io finirei un attimo al tempo qui perché qui si sta praticamente riempendo perché poi c'abbiamo la seconda parte molto interessante ok perché qui proprio c'è nonna gnugna che ci è venuta a trovare va bene